Ci siamo riunite qui stamattina perché abbiamo lavorato con i bambini per un progetto sulla pace. Ognuno nelle sue classi ha realizzato dei lavori attinenti al tema, soprattutto con lo scopo di far capire a questi bambini i veri valori che devono accompagnare la loro crescita per poter essere dei cittadini migliori in un futuro molto prossimo. L'obiettivo principale è quello di consolidare in loro l'obiettivo della fratellanza, della solidarietà, dell'armonia, del rispetto, della pace e viverlo giorno per giorno con momenti di vita normale. Abbiamo pensato di riunirci qui per dare la possibilità anche a chi non ci conosce oppure è distratto da mille altri pensieri soffermarsi e chiedere il perché di questa manifestazione intitolata proprio Vogliamo la pace nel mondo. Per un mondo migliore. L'obiettivo era semplicemente questo. Ogni bambino ha realizzato un pensierino, ha prodotto spontaneamente un pensierino sulla pace, lo ha scritto su un bigliettino legato al palloncino e fatto volare in cielo. Questo proprio perché ci auguriamo che chi raccoglierà questi palloncini avrà la voglia di leggerli e di farsi delle domande e cercare di rispondere come hanno risposto i bambini. Grazie.